Le alte temperature non danno tregua mettendo a dura prova la pazienza degli egrigentini in cerca di un po' di refrigerio difficile da trovare. L'AFA che si è abbattuta sulla città ha fatto registrare nel fine settimana il tutto esaurito sulle spiagge di San Leone. Grandi folle di bagnanti su tutte le spiagge egrigentine dalla villetta Sandro Pertini passando per la zona delle dune Zingarello e Punta Bianca. La voglia di mare è tanta in questi giorni di luglio che precedono il vio ufficiale alle ferie per molti. Il mare continua ad invitare a nozze e anche i numerosi proprietari di grandi e piccole imbarcazioni ne approfittano per fare una gita fuori porta. Fra partita racchettoni, lezioni circoli della vele, pasti veloci e freddi lungo le spiagge, intere famiglie e centinaia di comitive, soprattutto nel fine settimana ne approfittano per rimanere sdraiati sulla sabbia e per fare un tuffo in mare fino a tardosera. Puntuale come ogni stagione estiva e soprattutto nel corso dei weekend, la presenza dei parcheggiatori abusivi. Un fenomeno questo che torna a riproporsi ogni anno, i bagnanti chiedono interventi.